Stavo giocando ai videogiochi con i miei amici. Ci stavamo divertendo, erano più o meno le 5 del mattino e abbiamo sentito qualcosa. Poi è successo ancora. Sono andato nella camera da letto di mio padre e mia madre. In quel momento ho realizzato che qualcosa stava succedendo. Era la guerra, che due anni fa gli è arrivata in casa a Kiev, l'attacco russo sull'Ucraina che a partire dal febbraio del 2022 gli ha sconvolto la vita. Questa è l'Europa, è un podcast della redazione esteri del Corriere della Sera, prodotto da Prospect. Io sono Alessandra Coppola e nel secondo episodio, che abbiamo chiamato La guerra in casa, andremo alle porte di Parigi con Stefano Montefiori e in Repubblica Ceca con Federico Tomann. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea.